Una morte avvolta nel mistero a Portogruaro e per la quale si ipotizza possa trattarsi dell'ennesimo dramma della solitudine, trovato senza vita in casa il 53enne Michelangelo Drighetto, italo-inglese molto noto in città, il ritrovamento in via Massimo d'Azzeglio ieri nel tardo pomeriggio. Era dipendente della Copp Noncello, azienda pordenese che si occupa di pulizie e che lavora per l'inserimento di persone che in passato hanno affrontato le problematiche più diverse. Del fatto si stanno occupando i carabinieri, i quali confermano che si propende per cause naturali. Eseguito l'esame esterno.